Dal mese di aprile 2016, con il coordinamento del Comune di Bologna e l'Impresa Sociale Open Group, sono stati attivati dei percorsi di formazione che riguardano tre grandi temi, abitare, scuola e comunicazione. I percorsi formativi, finanziati da UNAR, dall'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali e dalla Commissione Europea, favoriscono la partecipazione e l'integrazione delle comunità ROM, Sinti e Non della città di Bologna. Thomas, Nicola ed Emilio, tre ragazzi di questa comunità, stanno svolgendo il proprio percorso formativo presso la redazione di Flash Video e Radio Città del Capo. D'estata ed è ancora tuttora una bella esperienza perché ho imparato molte cose che prima non conoscevo. Adesso noi qui stiamo lavorando, stiamo facendo il meglio per cercare di comunicare anche agli altri. Il bello è che abbiamo avuto maniera di essere coinvolti perché anche noi, Sinti, abbiamo bisogno di aiuti, di aiuti attraverso questi strumenti, attraverso strumenti della radio, attraverso strumenti del video, attraverso strumenti anche di comunicazione tra di noi. Speriamo che sia così, che gli altri si interessano alla cosa, che possono capire qualcosa di noi, delle nostre usanze e di come siamo noi in realtà. Come usare una telecamera, in che maniera e anche il cellulare in se stesso, come usarlo, come prendere lo zoom. Ho imparato come si usa un computer, ma mi stanno imparando come si ritaglia un pezzo, video. Il mio telefonino io l'ho usato per fare un piccolo video nel campo nomadi dove io mi trovo, dove poi abbiamo fatto delle prove di montaggio anche per imparare nello stesso tempo questo programma. Abbiamo aperto una pagina Facebook, gruppo Sinti, gruppo libero Sinti e non. In questo percorso abbiamo avuto maniera di poter essere presenti anche nella radio Città del Capo, nella cooperativa Open Group. Abbiamo maniera di poter anche lì esercitare, usare questo strumento, dove avremo ogni dieci giorni una puntata, dove parliamo di noi, parliamo un po' di quello che possono pensare gli altri, di tutte queste cose. Ho avuto la gioia, insieme agli altri educatori di Open Group, di poter essere ospitati dal professor Dario Fo, dove ha scritto un libro, Razza di Zingo. Io sono un sinto adesso che abito a Bologna e sto facendo un tirocinio sulla comunicazione, dove il Comune in un progetto ci hanno dato l'opportunità di poter partecipare all'attività, ma soprattutto come mediatore culturale, per spiegare la realtà del nostro popolo, la nostra lingua, la nostra cultura. La mia esperienza è stata bella, perché ho conosciuto un uomo dove ha avuto la sua esperienza e questo uomo ha raccontato la storia di questo bugile, Johan Trollman, che è detto rucali, significa albero, e questa storia reale ci ha trasmesso l'importanza di poter comunicare, anche attraverso questo libro, ma comunicare l'importanza anche della nostra cultura. In certi casi, quello che cerco di dire io, avete contribuito alla cultura di un popolo. Gli spagnoli vi devono molto, i francesi vi devono molto, perfino gli italiani, anche se non lo ammettano, vi devono molto. Ho provato una grande esperienza, anche personale, di conoscere i ragazzi della redazione. Speriamo che ci daranno un'altra opportunità di andare avanti con questa cosa, che i ragazzi, anche loro, si mettono come noi in prima linea a spiegare poi agli altri la nostra realtà. Anche nell'ambito del nostro campo, anche nell'ambito del nostro popolo, perché vogliamo dedicarci a far conoscere la realtà del nostro popolo, Grazie a tutti!